Benvenuti a questo nostro primo appuntamento con il diario di una giornata al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Per cinque giorni, sino al 13 aprile, il capologo Umbro sarà infatti epicentro della stampa mondiale. Un grande evento che noi della Scuola di Giornalismo di Perugia seguiremo da vicino per il canale dedicato al Festival sulla piattaforma di YouTube. Ogni giorno potrete visionare un video riassuntivo della giornata precedente, guardare le nostre rassegne stampa e le interviste ai protagonisti della manifestazione, tutti i grandi nomi del giornalismo italiano e internazionale. Ma vediamo come è andata ieri nella prima giornata di questa seconda edizione del Festival. Cominciamo dall'inaugurazione delle mostre nella Sala Lippi con il contributo di Stefania Bolzan. È l'inaugurazione delle quattro mostre allestite nella Sala Lippi di Banca Unicrediti in Corso Vannucci ad aprire la seconda edizione del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Presente è anche il segretario dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Il futuro del giornalismo in Italia non può essere rappresentato da gente della mia generazione, ma in tutta evidenza dai nuovi colleghi della vostra generazione che si avvicinano e che potranno cambiarlo, spero, in positivo. Montanelli, un uomo, un secolo, ripercorre a quasi cent'anni dalla sua nascita la vita pubblica e privata dal grande giornalista, attraverso foto, lettere e cimeli. Montanelli non amava molto le celebrazioni, le manifestazioni ufficiali. Se però queste occasioni servivano a metterla a contatto con i giovani, era sempre estremamente disponibile. Credo che abbia lasciato soprattutto l'eredità della coerenza. Distanze è la mostra fotografica di Giovanni Porzio. L'inviato speciale di Panorama racconta con queste immagini i suoi viaggi tra gli orrori e le meraviglie della Terra. Satira e informazione raccoglie invece alcune delle opere più significative dei maggiori disegnatori satirici italiani. Ilaria Alpi, il prezzo della verità, presenta le tavole a fumetti di Francesco Ripoli, tratte dal libro di Marco Rizzo. I disegni ripercorrono l'omicidio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Rovatin, avvenuto a Mogadiscio il 20 marzo 1994. Il nostro obiettivo come associazione Ilaria Alpi è quello di tenere viva la memoria su questo caso. E ovviamente dopo il film e dopo i reportage che sono stati fatti sul caso ci sembrava giusto portare in un posto come questo una mostra perché ha un linguaggio diverso, quindi il fumetto. Siamo sulla splendida terrazza dell'hotel Brufani di Perugia, se vogliamo il quartier generale del festival dove pernotano e pernotteranno molti degli ospiti in cartellone dove anche gli operatori dell'informazione hanno la loro base. Per l'occasione Rai e Radio Capital hanno mobilitato le proprie strutture per trasmettere proprio da qui le loro rassegne stampa del mattino. Ma ieri qui al Brufani c'è stata anche l'attesissima premiazione del concorso giornalistico intitolato a Paola Biocca. Vediamo come è andata nel servizio di Franz Giordano e Giuliana Palmiotta. E' un paradiso nel dolore quello che ha vinto. Kashmir in Pain, il reportage del fotogiornalista Cadri, si è giudicato il primo premio al Paola Biocca International Award. Le persone sono traumatizzate quotidianamente. Distruzioni e omicidi continuano ogni giorno. Scomparsa in un incidente aereo nel 1999, Paola stava tornando in Kosovo dove coordinava la missione umanitaria del World Food Program. Secondo posto ex equo per Samantha Casolari e Ilenia Piccioni e Antonio Tiso. Storie di emarginazione quelle fotografate e raccontate da Samantha nel suo Life After Sing Sing. Un viaggio al fianco degli ex detenuti del carcere di massima sicurezza di Sing Sing nel loro difficile percorso di reinserimento nella società americana. Ilenia e Antonio hanno scavato nella fragile quotidianità del manicomio criminale di Aversa. Un lavoro durato mesi tra spazi angusti ed emotività condivise. Un infopoint, quello che vedete alle mie spalle, per sapere di più su luoghi, orari e volti del festival, ma anche l'occasione per acquistare un libro a firma magari di uno dei protagonisti di questa manifestazione. Chissà da far autografare al termine di un'interessante conferenza, come quella che abbiamo seguito ieri all'hotel Brufani sull'arduo mestiere del reporter di guerra. Il servizio è di Ivana Del Vino, ma prima di lanciarlo colgo l'occasione per salutarvi, rimandandovi all'appuntamento di domani con il nostro diario. Grazie per la cortese, attenzione e buon festival a tutti. Il giornalismo italiano è moribondo, ne è convinto Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore, intervenuto a conclusione dell'appuntamento serale del festival, la presentazione del libro di Spaci dal fronte e storie mai raccontate. Una raccolta di reportage di guerra a cura di reporter senza frontiere e l'organizzazione internazionale che difende la libertà di stampa nel mondo. Il presidente Mimmo Candito, insieme al vice Domenico Affinito, a Negri e a Claudio Munici, inviato di avvenire, hanno parlato dei disagi del giornalismo moderno, come la velocità dell'informazione che spesso trascura la qualità. Un esempio, per Tony Capozzo, la pagina di silenzio che ha scritto ieri la stampa italiana in occasione dell'anniversario di morte di Ajman Naskabandi, l'interprete di Mastro Giacomo, ucciso l'anno scorso dai talebani, simbolo di un giornalismo viziato e incompleto. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.